Amici e amici bianconeri, buonasera e bentrovati. Siamo nel post partita. Bologna-Juventus appena terminata, così come di consueto per una analisi, la solita post partita, su ciò che è stato, su quello che ci lascia in dote la sfida del Dallara. Prima di sviluppare tutto, mi raccomando, se non siete iscritti al mio canale YouTube Fatto, lascate la campagna delle notifiche, mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, se sarà stata di vostro gradimento. Una Juventus che non sa più vincere, dopo tre sconfitte consecutive, l'ultima vittoria risale alla sfida con il Verona, dopo tre sconfitte consecutive torna a muovere la classifica, sale a quota 60, allunga, o meglio, accorcia di una unità sul secondo posto, avendo la Lazio perso ieri a San Siro, ma non riesce ad allungare sulle inseguitrici. L'Inter le rosicchia due punti, la Roma ed il Milan restano a distanza di tre lunghesse. E quindi è una bagarre incredibile sul piazzamento alla prossima Champions League, con il Napoli che fallisce il primo match point, ma poco cambia perché festeggerà semplicemente la volta successiva in quel di Udine, ma il problema per la Juventus è che quest'oggi, come avevo raccontato nel corso della settimana, è una settimana determinante, fondamentale, per dare una scossa alla situazione che si stia vivendo e soprattutto perché, alla luce delle sfide Roma-Milan e Inter-Lazio, c'era la possibilità di allungare sulle inseguitrici e di accorciare o eventualmente di superare chi ti precedeva. Invece la Juve fallisce l'obiettivo con una prestazione, da un certo punto di vista, sicuramente non è così negativa, non una bella Juve, diciamolo, non una bella Juve, però una Juve che ha costruito davvero tantissime occasioni da gol, le ha fallite clamorosamente, sia nel primo tempo che nella ripresa, al cospetto di un Bologna, che ha altrettanto avuto la possibilità di vincerla, perché soprattutto nella parte finale del match ha avuto almeno un paio di clamorose occasioni con Cambiaso e con Abisher, sui quali su Cambiaso ha detto no Scesdi e su Abisher ha detto no la fortuna. Poi la Juventus avrebbe potuto vincerla con Sule che si è divorato un gol clamoroso proprio davanti alla porta, calciando col suo piede preferito sopra la traversa. Tantissime occasioni, dicevo, per i bianconeri che si sono disposti con una sostanziale 3-5-2, perché Quadrado e Kostic hanno funto da esterni avanzati nel primo tempo, con Chiesa che ha fatto la seconda punta accanto a Milic. Milic che si è macchiato di un calcio di rigore a dir poco imbarazzante, quel saltello a mo' di ballerina incomprensibile, a seguito del quale io mi domando come possa un giocatore di un certo livello pensare di buttarla dentro, di realizzare sul calcio di rigore con quella tipologia di rincorsa che non concepisco. E infatti il calcio di rigore è calciato malissimo, parato da Scurusqui, che è stato uno dei migliori del Bologna, perché oltre al calcio di rigore ha neutralizzato in due circostanze clamorose la possibile rete del pareggio di Fagioli, che continua a non trovare la porta. Un Fagioli che era partito molto bene, che aveva dato ampi segni di ripresa, sradicando anche un pallone clamoroso in mezzo al campo, proprio con determinazione, con grinta, con voglia. Però poi, come dicevo, come commentavo guardando la partita, da Fagioli e Miretti, che sono i giovani con il maggior minutaggio alla Juventus in prima squadra, beh ti devi ovviamente aspettare di più. Perché non basta essere un giocatore della Juventus, se sei un giocatore della Juventus, se sei un centrocampista della Juventus e hai l'ambizione di rimanerci e di essere un fattore determinante alla Juventus, devi cominciare anche ad essere determinante in fatto di realizzazioni o quantomeno di assistenze ai tuoi compagni. E invece ancora troppo poco, sia per Fagioli sia per Miretti. E poi, insomma, che dire, la Juve che ha cercato sicuramente di trovare delle soluzioni offensive, che fino ad oggi non era stata in grado di trovare. Finisce oggi il mese di aprile, un mese di aprile direi sportivamente parlando, Ferri Bianconeri è assolutamente nefasto dal punto di vista del campo, non da quello della restituzione dei punti, ma dal punto di vista del campo, assolutamente nefasto. Perché, ripeto, una Juve che fondamentalmente non sa più vincere. Erano cinque sconfitte nelle ultime sei, restano cinque sconfitte, una vittoria e un pareggio, un po' troppo poco per ciò che il mese di aprile ti metteva davanti e che la Juve non è riuscita a capitalizzare. Bologna che ha fatto una discreta partita trovando il gol del vantaggio e qui credo sia il caso di aprire un po', non voglio dire la polemica, ma sicuramente attorno a questa marcatura, a questa rete sul calcio di rigore di Orsolini, seguiranno delle polemiche, perché la Juventus quest'anno è stata capace di rendersi protagonista, purtroppo in negativo, di tanti episodi strani al VAR. Orsolini, che era cascato in aria a seguito di un presunto contatto con Danilo, era stato giudicato non falloso dall'arbitro sosta sul campo, richiamato al VAR, il monitor non funzionava, non ha potuto rivederla in prima persona, si è dovuto fidare su ciò che il VAR ha ritenuto di dover modificare, ovvero decisione sbagliata quella sul campo, calcio di rigore assegnato, restano però tanti dubbi perché il tocco di Danilo ai danni di Orsolini non si riesce davvero a capire se ci sia, ma soprattutto qualora dovesse esserci, quale entità possa avere a seguito della caduta del giocatore. Al di là di questo, magari può anche essere che ci stesse il calcio di rigore, io ho tanti dubbi, non posso escluderlo perché ripeto l'ho rivista così sul momento e i dubbi sono tantissimi, quello che fa specie è che dopo l'episodio di Juventus-Salernitana mancano quei due clamorosi punti alla Juventus per una telecamera che non c'era, non era posizionata, non erano immagini disponibili al VAR. Oggi impariamo che il VAR potrebbe anche avere il monitor non funzionante e allora l'arbitro non può decidere in prima persona, si deve fidare su quanto gli viene suggerito dalla sala VAR. Juventus invece che pareggia, che ottiene un calcio di rigore, fallito clamorosamente da Milic, calcio di rigore sacrosanto perché l'intervento di Sumarossi su Milic a togliergli la scarpa, è assolutamente sulla linea dell'area, in linea dell'area che fa calcio di rigore e quindi anche senza la rivisitazione dell'arbitro direttamente al monitor non poteva che essere così perché la linea fa area e quindi era calcio di rigore. Juventus che spreca tantissimo, che non riesce a vincere, adesso testa alla sfida di mercoledì contro il Lecce, una partita quella sì, saremo in maggio. Lasciamoci alle spalle questo nefasto sportivamente parlando mese d'aprile per ricominciare a correre e farlo con quanti più punti possibili perché siamo ancora dentro nella lotta che ci vede invischiati alle inchieste, dovevamo fare quanti più punti possibili per evitare un'eventuale penalizzazione che potesse estrometerci dalla lotta ma così facendo anche fossimo dentro di pochi punti. Ecco serviremmo un assist clamoroso qualora ci fosse una richiesta, una nuova richiesta di penalizzazione per i bianconeri che non ripeto non sanno più correre, non sanno più fare punti come si deve e quindi alla luce di quanto, visto oggi al Dallara delle innumerevoli occasioni fallite, beh credo che tante colpe stiano da ricercare dentro se stessi perché non si può davvero fallire tutto quello che è stato fallito quest'oggi. Fattore determinante nel pareggio Iling Junior finalmente tornati in campo, inserito da Massimiliano Allegri, i giovani meritano di giocare, quelli che stanno bene, Iling Junior sicuramente oggi è stato determinante nel pareggio poi ottenuto grazie a una bellissima girata sul palo lontano rasoterra di Milic. Ditemi la vostra, ci sentiamo come sempre fino alla fine. Forza Juve!